Allora finisce il girone di andata, mai era successo in questi anni della coccinella di trovarsi alla fine proprio del girone di andata, un giro di parole in testa alla classifica. In battuta 10 su 10 c'è l'esultanza, tutti quanti i numeri, il tecnico Montemaggi sorride ma sorridono anche le giovani atleti che oggi hanno trovato spazio in una partita che era giusto anche creare qualche soluzione alternativa. Sì, è importante lavorare sempre sul gruppo, è importante che le ragazze si divertano, però ovviamente i giocatori nascono e crescono in campo durante le partite. Quindi visto che ci ritroviamo prima in classifica sicuramente c'è da fare prima, pensare prima all'importanza della classifica e dopodiché diamo spazio a tutte quante che sicuramente hanno grossi valori tecnici ma purtroppo poca esperienza nel calcio a 5 perché magari vengono dal calcio. Allora mister, molto rapidamente l'ha analizzato ma io volevo puntalizzare qualcosa in più. All'inizio della stagione lo sapevamo, qualche defiance per qualche notizia lieve che è arrivata, non andiamo a svelare, lo sveleremo più in avanti perché sono anche delle belle notizie. L'organico purtroppo ha subito delle, praticamente a questo punto di essere stato accorciato. Nonostante tutto qualcuno diceva che non ce l'avreste fatta, queste erano le tante voci, voi avete continuato a lavorare, i risultati lo hanno dimostrato. Alla fine del giorno di andata questa squadra è una squadra che ha ottenuto ben 10 vittorie e soprattutto non ha mai concesso punti, non solo in casa ma anche fuori. Beh, sicuramente è normale che in una piccola realtà come la nostra non si conta su di noi però noi lavoriamo più sulle persone che sulla categoria. Cerchiamo prima di creare dei giocatori perché quando ti fidanzi devi trovare prima casa, poi ti sposi e poi cominci a mettere su famiglia. E diciamo è quello che abbiamo fatto noi. Siamo partiti per gioco e quest'anno ci ritroviamo prima in classifica su Roma. Sicuramente non è finita perché siamo semplicemente al giro di Boa e comunque ci sono quattro squadre che sono di livello. Possono dire la loro naturalmente, possono dare disturbo. Certo. Allora mister, intanto per il momento lasciamo un attimo. È giusto comunque con il signore, primo anno proprio vero reale di campo, di minuti giocati, l'esperienza pian piano sta avvenendo fuori anche soprattutto dalle tue compagnie di squadra. Sì, grazie a loro stiamo cercando di fare qualcosa in più e sono contenta che gioco con loro e poi era importante fare questa vittoria e ora festeggiamo e poi testa la prossima partita. Ecco, quindi vivi alla giornata, quello che viene è buono, l'importante è che si vince, quando si vince è bene per tutti, però qualche minuto in più ti sta dando, anche ti stai ritagliando una bella fetta in questo campionato. Sì, sì, sono contenta così, piano piano si riuscirà a fare meglio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.